Musica Channel City Magazine incontra Adolfo Dell'Erba, direttore canale Sud Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, l'Italia è per definizione il paese del canale. Quanto è importante il canale per Dell e che obiettivi vi siete dati? L'Italia è per definizione il paese del canale, giustissimo. Gli obiettivi sono di crescere ancora, è una crescita costante che stiamo facendo da ormai 4 anni, più di 4 anni. L'anno scorso abbiamo fatto una crescita doppia rispetto a quanto sia cresciuta la Dell'Italia, siamo cresciuti oltre il 40% come canale. Continuiamo in questa ambizione di voler raggiungere delle quote importanti di mercato sul mercato dei partner. Primo trimestre l'abbiamo appena concluso, con un altro segno positivo. Le aspettative sono di continuare su questa strada. Hai parlato di una crescita, un biennio, nell'intorno al 70%, confermi? Sì, in questo momento più o meno siamo attorno al 35% del nostro fatturato fatto assieme ai partner. L'obiettivo è sicuramente ambizioso ma raggiungibile di raddoppiare questa quota nei prossimi due anni. Dell è una società in trasformazione, sta passando da un discorso di volume a valore. Importante sono le acquisizioni. Avete dato un forte peso all'acquisizione nello storage, software, avete appena aperto una divisione software. Quanto le nuove acquisizioni portano cultura del canale? Beh, andando a vedere la storia dell'acquisizione, che poi è una storia che si è aperta quasi in contemporanea con la storia del canale, quindi quattro anni fa sostanzialmente. Prima cosa da dire è che c'è stata un'accelerazione dell'acquisizione, siamo partiti nel primo anno e mezzo con otto società acquisite, siamo passati a dieci nel secondo periodo uguale. Solamente nel mese di aprile mi pare abbiamo annunciato cinque acquisizioni, tre definite, già chiuse, più Sonic Wall e Wise, che sono nel silence period definito per questo tipo di operazioni. La cosa interessante, guardando le dimensioni delle società che andiamo ad acquisire, è che la maggior parte di queste sono 100% canale, hanno come tipologia di go to market il canale per definizione. Quindi portiamo tanta cultura, tanti colleghi che hanno la cultura canale, quindi portiamo soluzioni, portiamo prodotti sicuramente pensiamo di eccellenza e cultura di canale, che in un'azienda di trasformazione, come hai detto tu Di Dele, e continuiamo questa trasformazione ogni quarter, è sicuramente importante per accelerare, per riuscire a raggiungere quegli obiettivi che ci siamo dati. L'operazione Sonic Wall è verosimilmente in Italia? L'operazione Sonic Wall dovrebbe concludersi, magari in queste ore, quindi siamo il 9 maggio, le aspettative sono che fra oggi e domani dovremo dare l'annuncio ufficiale. Abbiamo partner, abbiamo distributori, in questo momento la nostra posizione è di iniziare a lavorare assieme, di iniziare a conoscerci e poi di vedere come riuscire ad ampliare anche il mercato relativo a Sonic Wall. La struttura interna di supporto al canale come sta evolvendo? L'anno scorso, poi parliamo di quattro mesi fa sostanzialmente, abbiamo fatto degli importanti investimenti soprattutto sulla parte soluzioni, quindi persone di prevendita a disposizione dei partner e abbiamo un team ormai di nove persone, di cui sei sono entrate a partire da settembre, quindi è stato un investimento recente, continuiamo a investire, quindi ci saranno delle new entry probabilmente entro il primo semestre, quindi parliamo nei prossimi due mesi, investiamo sul marketing ancora, insomma ci sono diverse posizioni da andare a ricoprire, siamo in un periodo fortunatamente per noi in cui continuiamo a pensare di poter ampliare l'organico perché i risultati ci stanno accompagnando in questa avventura. Avete fatto una scelta di distribuzione locale, è ancora vincente questa scelta e come va la relazione con i distributori? Allora, deve essere vincente per forza perché è stata una scelta anche personale mia, quindi abbiamo iniziato a maggio del 2010 con i primi due distributori con Icos e Datamatic, proseguita a luglio dell'anno scorso con Cilin e diciamo abbiamo completato la squadra a novembre con Espinet. A seconda del tempo trascorso assieme ci sono risultati ovviamente diversi, però se dovessi dare una valutazione comprensiva sono assolutamente soddisfatto. Di quanto stiamo facendo tenendo sempre conto del diverso tipo di distributori, che poi è stato anche questo voluto, che abbiamo, quindi più coloro che più puntano sul valore e gli altri più sul volume, anche se poi queste distinzioni sono sempre meno evidenti, c'è sempre un'area in cui tutti quanti si stanno spostando i volumisti più sul valore e i valoristi che non rifiutano, soprattutto in momenti come questo, anche una parte quantomeno, se non magari minima, di volume. Qualche iniziativa per il canale a breve di cui vuoi parlarci? Beh, l'iniziativa più importante che abbiamo parte da noi internamente, quindi una organizzazione interna che prevede di lasciare ancora più spazio in Italia e in Spagna, sono due dei paesi di cui mi occupo abbastanza simili, come tipologia di mercato, quindi lasciare molto più spazio ai partner, quindi abbiamo un progetto di copertura congiunta con i partner di nostri clienti, quindi portare i nostri partner presso i clienti già acquisiti da Dell, ci concentreremo come persone Dell su una certa fascia di clienti, la fascia più alta sicuramente, ma anche questa concentrazione non significa la vendita diretta, significa la volontà di voler impostare a noi la strategia e di capire quali partner ci possono dare valore. Su tutto il resto del mondo Dell, canale, canale, canale per definizione, ed ecco perché anche la distribuzione ci deve aiutare, soprattutto in momenti come questo in cui ci sono altri tipi di pressioni, soprattutto economiche e finanziarie, ed ecco perché continuiamo ad avere partner che costantemente bussano alla nostra porta. Ultima domanda sul tuo ruolo, direttore canale Sud Europa, ecco, come va negli altri paesi? Mi viene una battuta, quando vado in Spagna mi sento fortunato, quando vado in Svizzera un po' meno diciamo, però sostanzialmente Italia e Spagna hanno delle similitudini, con la Spagna messa molto molto peggio anche a livello di situazione economica, Svizzera è un'isola felice ma questo lo è per definizione, e sul Belgio e Lussemburgo abbiamo anche questa piccola realtà, stiamo facendo numeri notevoli, anche perché lì abbiamo dei clienti che si chiamano Comunità Economica Europea, che anche loro vogliono essere seguiti per un discorso di prossimità e di capacità e così via da partner, quindi per esempio lì abbiamo un cliente enorme che si chiama la Comunità Economica Europea, che vuole i partner, quindi anche clienti di queste dimensioni hanno bisogno di partner. Grazie a tutti!